Tutto questo ritardo accumulato rispetto a quella che è stata l'affermazione vogliamo dotarci di un quadro preciso di regole affinché siano offerte le stesse possibilità a tutti era una cosa che si poteva fare tranquillamente quattro anni e mezzo prima proseguendo un percorso che andava semplicemente riattivato dopo il cambio dell'amministrazione cioè il patrimonio di conoscenze, tutta quell'attività di analisi che ha portato a quelle riunioni della prima conferenza di copianificazione andavano semplicemente portate avanti senza perdere tempo Proviamo a quantificare il danno per la città di questo ITER che si è bloccato Il danno si sostanzia nella misura in cui una serie di atti di programmazione dei quali si freggia questa amministrazione, parlo del documento strategico del commercio sono atti monchi perché non hanno una visione generale quindi rispetto a una visione più ampia se non c'è un quadro di riferimento generale è chiaro che poi ci sono una serie di ricadute che possono essere anche positive ma che sono monche a tutti gli effetti Senza contare che il nuovo affidamento, anche quello è un danno in quanto bastava quel incarico da 50.000 euro con l'attualizzazione del DPP Bastava andare avanti perché il rapporto professionale con il professor Carre però voglio dire questa cosa di parlare senza avere contezza di quello che si è ereditato è stata una modalità consolidata di questa amministrazione Io so che quelle carte copiosissime della conferenza di copianificazione dei contributi dati da tutti, anche da semplici associazioni di cittadini non sono state neanche visionate Grazie! 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 Grazie!